Per il nostro quotidiano appuntamento di A Casa con l'Arte parliamo oggi di quella maestro d'arte che nell'immaginario collettivo, nella leggenda, nella vulgata d'ognuno di noi, è tradizionalmente l'iniziatore della nostra arte più autentica, più vera, più umana e profana, più autonoma, ovvero Giotto di Bondone. Probabilmente il diminutivo Giotto viene dal nome completo Ambrogiotto o Angiolotto di Bondone, nato a Vespignano, di Vicchio del Mugello. Giorgio Vasari narra che il suo maestro, Cenni di Pepo, per gli amici Cimabue, rimase rapito guardando il giovane che, in una pausa, mentre pascolava l'armento di pecore del padre, stava incidendo su una lastra di roccia, con un sasso appuntito, il profilo di una di esse. Beh, un magnifico aneddoto, destituito completamente d'ogni credibilità. Certo è che al seguito di Cimabue, uno degli artisti nuovi, che iniziano a distaccarsi dall'eleganza, dalla frontalità, dall'iper decoratività dell'arte bizantina, ebbene al suo seguito Giotto arriverà a conoscere a Roma l'arte di uno dei più grandi scultori dell'Occidente d'allora, Arnolfo da Cambio. Già Giovanni Pisano, magnifico artista e scultore, aveva innovato, ispirandosi alla classicità, i moduli tradizionali d'un'arte ancora legata al mondo di Costantinopoli, ma è soprattutto Arnolfo da Cambio che dà il là a una nuova avventura. Giotto è l'autore di una delle più straordinarie imprese ad affresco, quella che viene realizzata nella cappella privata di Enrico Scrovegni a Padova. Lì la sua arte, un'arte solida, un'arte attenta alla realtà, perfetta espressione della nuova vita comunale di allora, inizia a dare i frutti più alti del suo genio. Vasari ci dice che Giotto aveva rapporti di amicizia con un coetaneo che gli era carissimo, Dante Alighieri, e probabilmente proprio a Padova i due si incontrano, dove Dante, esule Fiorentino, era lì, probabilmente per un'ambasceria. L'arte di Giotto è un'arte che innova integralmente quello che già avevano iniziato i grandi maestri dell'arte sacra romana, Filippo Rusuti, Jacopo Torriti, Pietro Cavallini, che Giotto porta, nelle loro intuizioni, alle estreme conseguenze. La classicità, i rilievi, i frammenti scultorei visti a Roma, la scultura di Arnolfo da Cambio e di Pisano, la lezione di Cimabue, vengono riassunti, alchemizzati, superati dal giovane talento. Il grande Dante Alighieri dirà che un tempo era Cimabue ad avere il successo, ora la sua fama è oscura per la grandezza del giovane titano. Con Dante Alighieri, con alcune scene straordinarie, incredibilmente intense come il compianto su Cristo morto, nella Cappella degli Scrovegni, noi abbiamo l'inizio autentico di una nuova, umanissima, profana e religiosa insieme espressività. Nel compianto su Cristo morto, la straordinaria figura d'una delle tre marie di schiena, lungi dall'allontanare lo spettatore, l'obbliga ad entrare all'interno della scena con un espediente che sarà mille volte ripetuto nel corso dell'arte occidentale. Lo strazio di Maria di Cleofa, che tenta quasi di rianimare Cristo, sorreggendone il corpo e protendendone le mani. Il dolore della Vergine, che guarda il corpo e il volto straziato e irrigidito nella morte di Cristo. La sofferenza e il tormento di coloro che sono accanto sono rappresentati con una veridicità che farà scuola. Davvero potremmo dire che dopo quella straordinaria Cappella, dopo quel magnifico tour de force d'arte, l'arte italiana e l'arte europea non saranno più le stesse.